Sì, sì, io però non so capire, esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza, ma scusate che cosa vuol dire? Evviva! Avvenite la guerra, avvenite, la guerra, ma di rose, baci d'amore, evviva la festa! Sì, ma scusate, sì, una festa, un'evrezza colossale, una sagra dell'euforia senza pensare, la mamma di Rosina era gelosa. Tutti a casa, tutti a casa, tutti a posto! Dopo il grande successo dell'anteprima nazionale del 13 giugno al Teatro Marrucino di Chieti e la replica del 6 ottobre al Teatro Fenaroli di Lanciano, il 25 aprile alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Maria Caniglia di Sulmona torna in scena per il debutto ufficiale, lo spettacolo Quando il grano maturò, storia di gente resistente, una produzione di Contaterra, di e con Marcello Sacerdote e con la regia di Laura Curino, attrice e autrice torinese, pioniera del teatro di narrazione in Italia. A parlarne al Tg8 è Marcello Sacerdote, attore e ideatore dello spettacolo e direttore artistico di Contaterra. Questo spettacolo che significato ha? Ha un significato enorme per il giorno, per il territorio e per le storie che restituiamo al giorno e al territorio. È una festa della memoria. Sulmona è il centro nevralgico di una cronaca di guerra e di una cronaca affettiva, di esistenza e di una certa resistenza. Cosa racconterete con questo spettacolo? Racconteremo la resistenza umanitaria in Abruzzo durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, cercando di raccogliere a livello cronologico, partendo dal 1943 fino alla liberazione, i fatti più eclatanti di quel percorso e di quel momento, e unire le vicende molto umane, quindi le storie alla storia, le memorie delle persone che realmente hanno vissuto quei fatti e che si sono trovati a scegliere in quelle condizioni. Una testimonianza di pace in tempo di guerra. Nonostante siano passati davvero tanti anni da quel 25 aprile, continuano ad emergere storie particolari che necessitano di essere raccontate. Allora c'è una storia più particolare di altre che racconterete? Difficile dire quale storia sia più particolare. Io parto dalla storia personale, la storia del mio bisnonno, che non ho potuto conoscere perché ritenuto pericoloso in linea politica, dal contegno troppo riservato e indifferente nei riguardi del regime, e che nel 1939 viene fatto fuori da una tortura fascista. Ma sono anche le storie delle donne, la storia di una donna, e in particolare Annina Santomarrone, processata e deportata in un lager in Germania, e morta in quello stesso lager per aver dato ospitalità a dei prigionieri in fuga, e la sua risposta è stata Non lo aiutate perché erano inglesi, ma perché sono cristiani. Eppure loro sono cristiani.